buonasera non lo dico neanche più che la sigla allora resto su un filone ieri avevo fatto una parentesi ma resto sempre sul filone del tempo dei viaggi nel tempo e di nuovo un ciac si evoca perché perché sul tempo sui viaggi nel tempo sulle dimensioni temporali i film e le serie si sprecano ma ovviamente nella mia rubrica racconto solo quelli che secondo me hanno un migliore impatto con la tematica reale dell'argomento questo drama è di nuovo un drama asiatico sto raccontando i drama parte che ne ho visti migliaia sono una fanna canita dei drama ma questo in particolare è secondo me bellissimo e poi c'è da dire che loro hanno un rapporto col comportamento spirituale e con la concezione spirituale che viene estremamente raffigurata in queste serie fantasy pseudo fantasy che appunto io chiamo drama si chiamano drama e inoltre essendo semi sconosciute ai più stanno riscuotendo un bel successo ultimamente in italia perlomeno quelle che sono state tradotte in italiano tradotte purtroppo solo con i sottotitoli tradotte a livello vocale non ne trovate al momento può darsi che adesso cominci qualcosa su qualche pay tv o su qualche app di quella a pagamento non lo so perché io non guardo dove è a pagamento quindi non ne ho idea ma con i sottotitoli come dicevo anche nell'altro chuck si evoca specialmente rakuten wiki ne ha molti e sono tutti quasi sottotitolati in italiano ma anche su youtube si trovano ora questo in particolare non credo però che ci sia sottotitolato in italiano è in lingua cinese della cina continentale ed è tradotto con i sottotitoli in inglese quindi magari questo al momento non tutti potranno seguirlo io li seguo anche perché essendo che sto studiando da un bel paio di mesi appunto il cinese e il giapponese in contemporanea perché io non posso mai fare una cosa unica devo farne tre o quattro in simultanea mi viene comodo anche proprio per impratichirmi con l'ascolto della lingua ma in ogni caso il sottotitolo in inglese a me comunque serve parlando anche l'inglese per poter confrontare se capisco ciò che dicono o no ma al momento tanto ve lo racconto in italiano quindi comunque la storia ve la racconto in italiano vediamo quanto tempo ci impiego è una serie di 35 puntate si intitola come anche da titolo qua sul jack si evoca my imperial maid che letteralmente tradotto significa la mia cameriera imperiale allora cing chang perché in praticamente quasi tutti i drama di estrazione della cina continentale una ragazza almeno che si chiama cing chang cioè deve essere un nome tipo maria e anna perché è comunissimo c'è sempre cing chang comunque siamo ai giorni nostri nel 2021 cing chang è un appassionata di letture storiche e in particolare è innamorata della dinastia han passa le giornate a leggere libri appunto sulla dinastia han e in particolare su un ceppo familiare e su un imperatore che viene descritto come un imperatore potente e capace che si chiama yang zing l'imperatore yang zing della dinastia han lei stravede per questo personaggio storico con la madre hanno un negozio d'antiquariato forse anche da lì nasce un po il suo amore per la storia antica e in particolare per questa determinata dinastia la madre preoccupata che la figlia viva eternamente solo su questi libri storici e non abbia una vita sociale non abbia amici e soprattutto dramma familiare non abbia uno straccio di fidanzato pur essendo in età da marito decide di fidanzarla con un altro antiquario che si è innamorato di lei a prima vista e che è una persona che accetta tutto da lei basta che lei stia con lui lei dal canto suo non se lo caca proprio il giorno del fidanzamento ufficiale in una delle gallerie dove presenta le mostre appunto questo pseudo fidanzato lei è invitata con la madre e quel giorno lì sarebbe proprio il giorno in cui davanti a tutti quanti lui le vuole dare l'anello di fidanzamento la mamma di lui la guarda un po con snobberia un po perché è ricca sfondata e un po perché lei non se li caca proprio nel senso che lei va lì dice sì sì ma la suocera o meglio la futura suocera parla 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 gli dice che secondo lei non sa se lei potrebbe essere una buona moglie perché lei vuole dei nipotini tot 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 le salite menate da mamma del maschio mentre lei c'ha le cuffiette nelle orecchie ciao manco se la caca e continua a pensare al suo periodo Han a metà della mostra lui la chiama sul palchetto e davanti a tutti le dà un anello mentre le sta dando questo anello lei nota ha alcuni ritratti fatti a inchiostro antico appesi alle pareti e in uno di questi fogli c'è un ritratto che sembra molto molto simile a lei allora incuriosita da questo quadro vede che ci sono anche delle scritte si avvicina per leggere meglio la situazione sempre con le sue cuffiette lui gli sta dando l'anello lei si si vabbè lo piglia così a cazzo ma non gliene frega una mazza lo evita e va a vedersi sto quadro sta scrittura sto dipinto appeso ma mentre ci si avvicina il foglio si stacca dal muro come a volar via e svolazza fuori dal negozio dalla mostra lei lo insegue la gente dentro insegue lei ma lei corre veloce segue questo foglio che sembra non fermarsi e continuare a volare a mezz'aria arriva fino a un boschetto e si va ad appiccicare su un albero un albero che ha un buco cavo particolare è una sorta di muccio di foglie da un lato lei si avvicina per vederlo perché si era spiccicato contro sto albero mentre lo sta guardando in cielo si vedono sette stelle che si mettono a cerchio quasi a formare un ettagramma con una stella in centro quando questa stella l'ultima finisce per illuminarsi nel centro sotto i piedi di lei si illumina un qualcosa di luce e lei sparisce sotto terra sparisce sotto terra e la si vede arrivare in volo e cadere su un palco nel quale alcune ragazze in costume antico stanno facendo delle danze è un concorso di bellezza e di bravura lei arriva con un vestito moderno un vestitino rosso a minigonna un paio di tacchi alti che gli aveva fatti mettere alla madre per piacere di più al fidanzato allo pseudo fidanzato e via dicendo le scarpe le perde cadendo i votanti quando la vedono arrivare dal cielo poi lei si aggrappa per cercare di scappare a un tendone questo si stacca e lei comincia a svolazzare picchiando con i piedi da una parte alta come se facesse una performance alla fine tutti votano sta tipa e lei ching ching vince questa competizione seppur non ci aveva neanche partecipato non capisce cosa sta succedendo non capisce dov'è non capisce niente ma gli dicono che ha vinto e che quindi andrà al castello imperiale lei comincia a chiedere dove si trovi che anno è e qualcuno appunto gli risponde che è l'anno di potere della famiglia Han sotto l'imperatore che sarebbe il padre ora non ricordo il nome l'imperatore padre del famoso Yan Xin che lei aveva letto nel suo libro e rimane così non capisce però presa dagli eventi viene portata a palazzo praticamente quel concorso serviva per trovare una cameriera fidata per il palazzo del principe ereditario il principe ereditario era il secondo fratello presumibilmente il primo era morto secondo fratello figlio della defunta imperatrice è una brava persona è un pochettino tontolone è un po' tonno subito pensa di potersi approfittare di lei quasi gli vuol saltare addosso però lei che è ferratissima in storia lo guarda e gli dice non puoi perché adesso ti vengono a chiamare perché più o meno questo periodo ora ti vengono a chiamare perché ci sarà un'inondazione del fiume giallo e i tuoi cittadini avranno bisogno del tuo aiuto per sistemare la situazione lui si mette a ridere e cerca di acchiapparla per la stanza ma a un certo punto arrivano le guardie che lo convocano a palazzo perché il re l'imperatore lo vuole quando arriva a palazzo l'imperatore gli dice che appunto sta straripando il fiume giallo e che lui deve prendere delle precauzioni per i civili allora lui rimane un po' così torna nella sua abitazione l'aveva fatta chiudere dentro a lei e gli dice come facesse a saperlo allora lei gli dice sono una fata io sono una fata se tu non mi tocchi e mi lasci stare io posso aiutarti a vivere meglio perché io so tutto so come funzioneranno le cose e lui ci casca infatti comincia a chiamarla fata solo che c'è il problema che questo primo principe questo secondo principe quindi l'erede al trono si innamora di lei lei ce n'ha per le palle perché non gliene frega proprio niente di essere innamorata di nessuno scappa da palazzo e va a lavorare per un periodo in un negozietto di tessuti all'inizio lui lei fa amicizia con il figlio della proprietaria e lui chiede a sua mamma di assumerla ma sua mamma gli dice non facciamo un soldo per noi come faccio a assumere gente non potrei neanche pagarla non stiamo vendendo niente allora lei per sdebitarsi dell'amicizia del ragazzo li aiuta a migliorare le vendite comincia a creare delle sfilate di moda fuori che attirano persone a fare sconti di massa crea dei manichini dove metterci gli abiti in esposizione e insomma gli tira su tanto le finanze passate lì una nobile donna del palazzo è una delle concubine preferite dell'imperatore madame g madame g vede queste novità si informa capisce che queste novità le ha create quella ragazza la fa rapire e la fa portare davanti a lei a palazzo e gli dice visto che ho visto che tu hai tanto ingegno resti qui e mi aiuti tra poco sarà il compleanno dell'imperatore e io voglio colpire il suo ego con qualcosa di straordinario qualcosa che nessuno gli ha ancora fatto allora lei ci pensa e ci ripensa nel frattempo c'erano altre cameriere di palazzo che la bullizzavano sempre ma lei era buona e ogni tanto se la prendevano al culo parlando male proprio dalle colleghe che gli facevano tutti i dispetti del mondo insomma lei si chiude in una stanza lavorando in legno e non si vede più cosa sta facendo arriva il giorno del compleanno dell'imperatore ci sono ballerine c'è chi gli regala un rotolo dipinto chi gli regala una giada chi gli regala una cosa antica della sua famiglia e via dicendo a un certo punto spiazzando tutti arriva una giovane donna con il velo e il viso coperto su dei pattini roller made fatti in legno e fa tutta una serie di balli e performance sui pattini come se fosse un atleta di pattinaggio per poi fermarsi a inchino davanti all'imperatore l'imperatore rimane flashato perché non ha mai visto una cosa del genere gli dice di togliersi il velo lei se lo leva ed è madame G quindi la sua concubina e lui rimane estasiato da questa performance da questa novità e decide di passare un tot di notti con lei questa concubina non riesce ad avere figli con l'imperatore la cosa gli rode perché le mogli ufficiali l'imperatrice prima è morta però gli aveva dato due figli l'imperatrice seconda gli ha dato due figli la terza moglie di nuovo gli ha dato uno o due figli insomma nel telefilm si capisce che minimo ce n'ha 14 perché si arriva fino a 14 esi un principe quindi qualcuno sarà anche morto uno ha uno ha dei problemi di salute è un po' sforato uno muore durante un incendio che succede proprio mentre Qin Chang è cameriera lì succede perché il quarto principe sta tramando casini vari per rubare il trono e ha dei colleghi fa in modo che si appicchi il fuoco che si appicchi un incendio nella camera dell'erede al trono quando lui non c'è lui vuole solo creargli un problema cioè un danno di modo che venga punito dall'imperatore che venga un po' screditato come persona e che l'imperatore decida di scegliere un altro dei suoi figli come successore non vuole fare altre cose ma combinazione in camera del secondo fratello c'era nascosto uno dei principi tra i più piccoli quello di 11-12 anni che muore nell'incendio morendo nell'incendio l'imperatore va in bestia da del cretino al suo punto erede al trono al suo secondo genito e lo fa sbattere agli arresti domiciliari e gli toglie proprio il titolo di erede al trono lasciandolo per ora vuoto cominciando ad informarsi tra i suoi ministri vi dicendo chi secondo loro sarebbe meglio da mettere come successore al trono come imperatore di tutti i figli che ha l'imperatore quelli in lizza per il trono una volta tolto il secondo genito che comunque ci sarebbe stato di diritto perché era il figlio della prima imperatrice ma ha fatto sta cavolata e quindi gli ha tolto il diritto il padre lì poi non c'era un diritto di successione in base all'età o cosa era l'imperatore a decidere chi era il suo dei tanti figli erede quindi non c'era possibilità di nascita o di cosa insomma l'imperatore dovrà decidere i fratelli in lizza sono il quarto che è molto serio molto posato amante della musica amante delle arti ma è quello che complotta di più perché a suo dire non è stato quasi considerato in famiglia sin da bambino veniva quasi scacciato come se fosse un bastardo anche se non lo era anche se era realmente figlio dell'imperatore e tutto veniva trattato un po' male e sta cosa gli era rimasta qua tanto che poi in età adulta aveva deciso che il trono lo voleva lui poi ci sono c'è l'ottavo principe che è è un giocarellone scherza ride però è bravissimo nelle arti marziali estremamente intelligente e caratterialmente buono anche se all'inizio si fa un po' trasportare dai suoi due fratelli il decimo principe l'undicesimo principe che sono un po' più stronzi e quindi fa scherzacci fa battuta e tratta le donne un po' male però niente di gravissimo fanno un po' i bulli rispetto a cattiverie più grosse che facevano i principi all'epoca tutto sommato è solo un po' di bullaggine e poi c'è il quattordicesimo principe che è fratello di sangue di madre dell'ottavo ed è ancora però abbastanza giovane è un ragazzo poi ci sono altri principi di contorno c'è il tredicesimo che è spesso in missione in viaggio lui fa parte delle missioni dell'esercito ma non è in lizza al trono e altri insomma cincian si ritroverà incasinata in queste storie di palazzo con la concubina Lady G che cercherà in tutti i modi semplicemente di far andare sempre l'imperatore in camera sua sconvolgendolo con novità e cose nuove cose belle cucine strane per poterselo attirare con l'ultima imperatrice Lady De che è la madre naturale dell'ottavo principe del quarto principe del quattordicesimo principe e altre concubine altre donne e anche la consorte Lang che però si dice sia impazzita e sia chiusa all'interno del suo palazzo per ora la consorte Lang non si vede l'imperatore ha anche spesso dei sogni nei quali la vecchia imperatrice la prima imperatrice quella morta gli va a parlare e gli dice a volte di perdonare un figlio a volte di perdonare il figlio di un'altra concubina lo aiuta nelle sue decisioni e quando lui per un po' non la vede in sogno ne sente proprio la mancanza come se non la vedesse in real ma lei è morta tanti anni prima c'è da dire che prendere per i fondelli un qualsiasi imperatore della dinastia Han credo fosse stata una delle cose più semplici del mondo perché loro avevano l'ho notato anche in altri dramma in altre situazioni la fissazione dell'amore filiale quindi bastava con qualsiasi figlio facesse vedere quanto era affezionata mamma e papà gli veniva perdonato tutto a come sei filiale a prescindere e questi ovviamente se ne approfittavano sempre questo drama qua non fa eccezione insomma l'ottavo principe si innamora di Chen Zhang Chen 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 Zhang non mi ricordo più come si chiamava Chen Zhang no Chen Zhang si innamora di Chen Zhang aveva invertito i nomi ma ci si innamora l'ottavo ci si innamora il secondo ci si innamora quello che vendeva le stoffe si innamorano tutti di lei perché? perché lei è strana è particolare lei conosce tante cose anche di chimica di cose che all'epoca non esistevano e quindi lei è iper invidiata dalle altre cameriere e amata da tutti tutti la vogliono a bella e tu rigia tutti e nessun sa pigia in particolare l'ottavo principe una volta che smetterà di fare il bullo perché lei lo sgrida come una bicia si innamorerà talmente tanto di lei da rischiare più volte la morte stessa per salvarla per aiutarla e via dicendo fino a far concedere da parte dell'imperatore di poterla sposare al figlio cosa che non veniva concesso perché se una donna non veniva da una casata nobile un figlio di imperatore assolutamente non poteva sposarla ma avevano risolto eventualmente facendola adottare dalla famiglia della concubina G e quindi sarebbe diventata nobile per adozione e poteva sposarlo ma in quel momento lei dice di no lei dice io non lo voglio sposare io ci sono tanto amica ci sono tanto grata ma non sono innamorata di lui e rifiuta le rifiuta tutti perché si era presa una scuffia per il quarto principe che era quello che stava complottando contro tutti quanti padre fratelli e tutto ma lei non lo sa gli sembrava intelligente austero forte serio che non lo era per niente perché prima si piglia una moglie per convenienza e la tratta come una merda proprio poi fa credere a una tizia che aveva reclutato in giro che sapeva le arti marziali di essere innamorata di lei semplicemente per sfruttare le sue capacità questa peraltro era diventata amica di cheng cheng solo che poi scoprendo che il quarto principe si stava innamorando dell'amica c'erano andati i fumi al cervello e la stava quasi per uccidere e invece sembra che uccidano lei ci sono tante storie in mezzo tante lotte di potere ci sono tanti errori che fa un principe che fa l'altro uno viene punito l'altro viene scagionato poi viene punito l'altro madri che si intersecano per riuscire a far salire i propri figli invece che gli altri come tutte le storie di palazzo arriverà arriverà scusate un momento il bello del non puoi ripulire i video dei miei casini arriverà un momento in cui la madre naturale dell'ottavo fratello uscirà finalmente dalla sua pazzia uscirà dal palazzo dove era segregata e tornerà ai favori dell'imperatore fingendo di volersi uccidere perché non aveva più il suo amore l'imperatore era molto legato a questa moglie che si chiamava consorte lang perché il suo viso era praticamente identico alla prima imperatrice quella defunta era per quello che lui l'aveva presa come consorte e quando scopre che lei si stava uccidendo per lui che non la considerava che l'aveva relegata la salva subito la tira fuori e la riporta a palazzo all'inizio la consorte lang essendo la mamma naturale dell'ottavo principe fa di tutto per non farlo stare insieme a cianciang ma nel frattempo tanto stanno passando i tempi cianciang si sta innamorando dell'ottavo principe allora alla fine decide che si che vuole stare con lui la madre non è d'accordo prova a cacciarla via prova a dirgli che non deve starci ma lei gli risponde non me ne frega una cipa lei gli dice ma è un principe tu non hai origini se non lo vuoi rovinare non ci devi più stare assieme lei la guarda gli dice no non hai capito io ci sto lo stesso grandissima che di solito non capita mai nei drama invece lì aveva le palle lei insomma alla fine sta mamma sta da consorte reale accetta la situazione seppur la fa andare a vivere da lei a palazzo con la scusa di insegnargli il bontone del palazzo e all'inizio la tratta un po' maluzzo ma abitando lì lei a un certo punto si rende conto che una sera la mamma dell'ottavo principe esce in un giardino che c'è sul retro e che è sempre stato chiuso per andare a fare qualcosa lei era lì fuori che stava sistemando dei fiori ma quando sente uscire qualcuno dalla porta si nasconde e vede che è la la suocera la futura suocera tutta vestita di nero con un mantello nero a nascondersi che va dentro a questo giardino più avanti che era chiuso allora cian cian è incuriosita da sta scena e la segue la segue e arriva in un punto dove da dietro al cancelletto vede che c'è lo stesso albero cavo dal quale lei era caduta nel passato e resta un attimo così e vede la la neosuocera che collega dei fili tra un albero e l'altro fa dei rituali fa delle cose e da lì sospetta che anche lei conosca questo passaggio dimensionale tra il futuro e il presente succederanno altre cose la signora la la consorte verrà scoperta dalle altre mogli verrà denunciata all'imperatore come strega e dovrà in qualche modo difendersi ma alla fine riuscirà a difendersi e infine di tutta questa storia parlerà faccia a faccia con Chen Chang e quando saranno sole Chen Chang gli dirà vieni anche tu dal ventunesimo secolo e la signora imperiale gli racconterà che sì lei era una poliziotta stava inseguendo un delinquente ci fu un po' di lotta a lei gli sparò alla schiena ma questo riuscì a scappare alla fine lo stesso mentre lei lo stava per raggiungere e si era fermata un attimo proprio vicino all'albero cavo una congiunzione stellare particolare l'ha fatta cadere nel passato quando è arrivata nel passato si è resa conto che alcune cose del passato dal suo arrivo stavano cambiando leggermente la storia lei conosceva la storia della dinastia Han perché in Cina la studiano a scuola come noi studiamo gli antichi romani si era resa conto che subito era arrivata nei panni di una cameriera praticamente era un po' come se essendo che la sua anima era entrata in quell'epoca in automatico qualche altra anima era uscita era andata via e lei aveva preso il posto di queste anime prima di una cameriera poi in seguito a un incidente a corso mentre era una cameriera si ritrova nei panni di questa consorte Lang che era stata presa come consorte da pochissimo l'imperatore aveva da poco perso appunto la sua imperatrice prima di cui era veramente innamorato tanto da non voler concepire che fosse morta e continuasse a sperare che la consorte Lang fosse in realtà la sua vecchia imperatrice lei gli continua a dire non sono l'imperatrice io sono la consorte Lang peraltro sono appena arrivata perché non voleva avere niente a che fare con l'imperatore lei era ancora se stessa ma l'imperatore preso dalla foga dell'aver ritrovato la vecchia consorte che amava la violenta sul letto da quella violenza nasce il figlio e lì spiega sempre a Chang Chang che non ha più voluto andarsene perché non voleva lasciare il figlio in quella gabbia di matti praticamente però aveva paura che se l'avesse portato o tentato di portare nel futuro magari essendo lui un'anima del passato potrebbero esserci state delle conseguenze e quindi non si era rischiata aveva preferito sacrificarsi lei a rimanere in quell'epoca che non le piaceva pur di riuscire a crescere questo figlio però poi in seguito a vari stress come appunto queste trame di corte il cercare di rovinarla il cercare di fare lei che era una donna dei tempi nostri non abituata a questo genere di cose gli era venuto praticamente un esaurimento nervoso entrata in depressione e lì la consideravano impazzita e si era chiusa in se stessa a un certo punto la congiunzione stellare ritorna lei riesce a spiegare a Chen Chang che quella congiunzione stellare si verificava una volta ogni quattro anni quindi praticamente erano passati già quattro anni che Chen Chang era lì e lei gli dice ora mio figlio è grande è adulto può arrangiarsela da solo io adesso torno nella nostra epoca se vuoi venire questa sera si aprirà il portale e Chen Chang gli dice si ma tuo figlio non ce lo possiamo portare dietro perché io non voglio lasciarlo e lei gli dice non so perché non so come va a finire ho sin paura che se arriva di là si può anche sbriciolare non so come funziona io ero una poliziotta non ero un fisico nucleare non ne ho idea però non voglio rischiare la sua vita io torno indietro lui è adulto se vuoi venire questa notte si aprirà il portale lei arriva fino al giardino la signora è già in posizione per poter andare in questo portale che praticamente si apriva in un pozzo che era lì nell'epoca antica e lei però la guarda e gli dice no io sono innamorata di tuo figlio io resto qua se torni nel futuro cerca di rintracciare mia mamma e digli che sono viva e che sto bene e lei gli dice va bene arriva la congiunzione si apre il portale lei sparisce nel pozzo alcune cameriere che sono dietro a Chan Chan che stanno arrivando la vedono buttarsi nel pozzo e quindi pensano che si sia suicidata lì l'imperatore ci patisce ma poi finisce lì ci saranno ancora trame ancora casini arriverà un momento alla fine della serie nella quale il quarto principe quello che stava facendo trame da tutte le parti per potersi fregare il trono farà una sommossa verso il palazzo ma poco prima di arrivare al palazzo all'interno delle camere dell'imperatore lo fermerà Chan Chan dicendogli che l'imperatore aveva già comunque scelto il suo successore e il suo successore sarebbe stato lui gli fa vedere dei documenti che lo provano e tutto e quindi lui calma le acque però si sente quasi in colpa allora dopo che Chan Chan gli fa promettere che però non avrebbe toccato l'ottavo fratello e non l'avrebbe ucciso il suo marito perché ormai si erano sposati lui corre nelle stanze dell'imperatore l'imperatore stava morendo perché perché era stato avvelenato tempo prima da delle patate di quelle viola di razza viola che erano state avvelenate proprio dal quarto principe per farlo fuori e usurpare il trono è lì che si sente in colpa si scopriranno altre storie che la mamma del quarto principe aveva ucciso un figlioletto di una delle regine di una delle concubine appena nato e si sentiva in colpa per questo ma Buddha la stava punendo insomma tante storie incatenate di palazzo lui arriverà nelle stanze dell'imperatore ma l'imperatore sta già morendo e gli chiederà come mai gli dice proprio a suo padre come mai hai voluto me come re dal trono quando sono sempre stato l'unico a non essere stato viziato considerato cacato sembravo figlio di nessuno gli altri erano tutti sulle tue ginocchia a me proprio non mi avete considerato manco di striscio e poi vengo a scoprire che mi avevi designato al trono perché per quale motivo e l'imperatore gli dice proprio per questo perché sul trono non ci può stare un frignone papamolla come il tuo secondo fratello e non ci può stare nemmeno un uomo troppo buono di cuore come il tuo ottavo fratello il quattordicesimo è troppo piccolo ho fatto credere a tutti che sarebbe salito lui per vedere le vostre reazioni ma l'unico che ha polso e carattere per poter essere un imperatore di un governo così grosso come il nostro impero degli Han eri tu e lui si sente una merdaccia perché il padre sta morendo per colpa sua però capisce le intenzioni del padre ma il padre stesso sa che è stato lui in qualche modo ma accetta la sua situazione l'imperatore muore dopo che gli ha detto dov'è l'editto imperiale che lo avrebbe proclamato imperatore lui davanti ai nobili della corte si proclama imperatore e mostra il mandato del padre ma l'ottavo fratello insieme con il decimo e l'undicesimo perché erano sempre tutti attra assieme si ribella a sta cosa dicendogli che lui comunque ha ucciso il padre quindi fa schifo a prendergli il trono adesso insomma viene incarcerato l'ottavo fratello con l'undicesimo e col decimo e di nuovo lì interviene Chang Chang va a parlare con il quarto che ora adesso è imperatore e gli dice il nostro patto era che tu non lo avresti ucciso e lui gli risponde infatti non lo uccido io mantengo le promesse non lo uccido però rimane incarcerato a vita e lei gli dice no devi liberarlo faccio quello che vuoi ma devi liberarlo allora lui che si era innamorato di lei ma lei gli aveva tirato otto due di picca alla fine quando si era accorta che era un sacco di merda alla fine piangendo disperata accetta la situazione pur di far liberare il marito allora si vedono un'ultima volta col marito e gli dice che va a palazzo e gli dice beh io l'ho fatto solo per farti liberare purtroppo tuo fratello è un tiranno e non si può fare diversamente piangono disperati tutti e due e lei va verso il palazzo quando va verso il palazzo va nelle stanze della moglie lui nel frattempo ce ne aveva già due le moglie lui arriva e lei è lì sconsolata a un certo punto lui gli dice adesso sei qua adesso lo sai cosa devi fare e lei comincia a slacciarsi la maglia e lui gli dice ma a me non mi interessa avere il tuo corpo io voglio avere il tuo cuore e lei gli dice quello non l'avrai mai io ti ho promesso che mi sarei data a te mi sto spogliando prendimi ma il mio cuore non l'avrai mai quello rimarrà per sempre solo di mio marito allora lui se ne risente e se ne va sbattendo la porta insomma che può scrivergli poesie può scrivergli biglietti cioè prova a tutti i modi ma lei proprio anzi più gli scrive più gli sta sui coglioni non se lo caca proprio fin quando nel frattempo non sono passati altri quattro anni allora la sera della congiunzione stellare lei riesce a fare in modo e maniera ad andare nel giardino segreto della suocera aspetta la congiunzione si mette in piedi sul pozzo nel frattempo arriva l'imperatore stronzo che cerca di convincerla a scendere dal pozzo ma lei gli dice semplicemente che lui è diventato imperatore ma era già scritto che lo sarebbe diventato perché lei se lo ricordava dai libri che aveva letto nel futuro cioè però deve imparare a essere un imperatore corretto e onesto mentre gli dice queste parole piano piano inizia a scomparire e sparisce nel portale dimensionale si ritrova nuovamente nel futuro si ritrova nel futuro vicino proprio al negozio di antiquariato della mamma allora corre dentro corre su e su c'è anche quello che se la voleva fidanzare lì nel futuro e gli dice e lei gli dice come sta mia mamma come dice guarda quando sei sparita la zia perché lui la chiama zia per rispetto la zia non si è più ripresa passa le giornate abbracciata al tuo libro di storia e insomma lei va lì mamma a baracce e baci poi si gira verso lo pseudo fidanzato e gli dice guarda io sinceramente non me la sento non voglio stare con te io non voglio stare con nessuno io me ne voglio stare da sola se poi un domani capiterà diversamente non te lo so dire e lui alla fine gli dice sì ma lo capisco ci ho pensato dopo io non volevo costringerti ero tanto preso da te che pensavo che prima o poi visto che comunque non ti interessava nessuno alla fine saresti riuscita ad affezionarti ma in effetti forse ho forzato troppo le cose ti chiedo scusa e se ne va lei riprende la sua vita di sempre al negozio d'antiquariato ci sono un po' di clienti che guardano i suoi oggettini lei ogni tanto quando gli capita in mano qualche oggetto che aveva la forma degli oggetti appunto della dinastia Han lo lucida lo guarda e gli viene quasi un po' da piangere si stanno avvicinando due clienti e stanno guardando un orologio a cucù che lei ha lì fuori mentre lo guardano vedono una massa di gente tutta ammucchiata più avanti e tra di loro i due clienti dicono ci deve essere qualche star della televisione andiamo a vedere e scappano via e lei si gira vede sta massa di gente però è distante non è che vede bene a un certo punto sente una voce che conosce che dice ma che succede ma che volete ma chi siete e lei resta un attimo così si vede la scena nel passato perché nel frattempo erano passati altri quattro anni dove suo marito quindi l'ottavo principe era andato vicino neanche dal pozzo vicino alla casa della madre perché sapeva che lì era scomparsa la madre ed era scomparsa anche sua moglie tutto triste tutto mogio ma si verifica la congiunzione stellare particolare e forse perché lui era figlio di una del ventesimo secolo forse perché la missione dei time traveler in quell'epoca era finita non si sa era sparito ed era apparso nel ventunesimo secolo quando lui comincia a scacciare via tutta sta gente la folla si dirada lei lo vede allora come lo vede lo vede lì gli scendono le lacrime si abbracciano mi stavo mettendo a piangere anch'io che non mi succede mai ma hanno girato una scena con delle facce talmente che mi stava venendo il magoncino pure a me che di solito sono gretta come un camionista alieno e niente finisce che sono praticamente abbracciati che dicono che nemmeno il tempo li aveva potuti dividere ecco ecco questi personaggi qui erano dei time traveler involontari che anche loro si creano questa idea questa ipotesi che forse erano finiti appunto in quel passato perché in qualche modo hanno avuto un ruolo determinante nelle varie ascese e in ciò che doveva andare in quel modo in quel passato ma non ci sono certezze questa è durata 50 minuti non lo carica più stasera però era lunga ma bisognava spiegare alcuni dettagli e ho messo tutte le varie guerre interne tra una concubina una cameriera una qua una là perché ce n'erano tante c'era anche un bordello di donne bordello nel senso vero della parola di prostitute che diventano amiche con Zhang Zhang perché lei gli insegna due tre modi nuovi per guadagnare e poi gli fanno un tot di favori per aiutarla a fare certe cose insomma ce n'è tante di storie dentro è carinissimo proprio bello bello e anche stasera ho parlato dei viaggiatori del tempo in un ciaxi evoca ce ne saranno ancora perché questo argomento è molto vasto parlerò ancora degli spazi dimensionali spiegherò in un altro video anche qualche storia del paranormale anche se qualcuna l'avevo già messa dei time traveler e mi butterò di nuovo anche sulle teorie della quantica della quantistica e sulle teorie degli spostamenti in astrale per poter cambiare gli eventi che è una cosa che si studia da tempi in memory poi ci sarà anche da discutere la questione dei paradossi temporali ma piano piano di tempo ce n'è tanto anche se stasera ho veramente fatto fuori i tempi massimi di solito mi consigliano di fare meno di mezz'ora sono a 52 minuti e devo ancora dirvi che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in vendita i miei libri buon tempo e buonanotte ciao